... Ogni mese la struttura del Casalbergo per Anziani Mazzone festeggia tutti gli anziani che nel corso del mese compiono gli anni raggruppati in un'unica festa. Questo mese però è speciale perché il primo luglio compie cento anni una nostra ospite, la signorina Providenza Alesso e lo compie il compleanno nello stesso giorno di un'altra sorella che è Ida che appunto compie 96 anni. È una famiglia longeva perché esiste tra di loro anche un'altra sorella di 98 anni. È un fatto molto simpatico specialmente perché la signorina Ida era molto conosciuta in città perché fu una delle prime commercialiste o meglio anche come consulente del lavoro della città. È una bella occasione per tenere su anche il morale di tutti gli anziani i quali attendono questo giorno per allegrarsi con tutti i volontari a cominciare dai musicisti che ogni mese sacrificano il loro tempo per allietare questi momenti e poi anche tutto il personale, i familiari che si occupano dei nostri anziani ospiti. è un momento lieto e particolarmente quello di oggi, primo luglio perché festeggiamo i cento anni di Providenza Alesso.